Gon, poltrona maschile barber, specifiche, poggia testa allungabile, schienale reclinabile tramite leva, poggia piedi reclinabile in alluminio, pompa idraulica bloccabile con freno regolabile, schiuma ad alta densità, struttura interna metallica e braccioli in alluminio iniettato, base rotonda metallica, caratteristiche tecniche, lunghezza, 101 cm, lunghezza totale in estensione, 150 cm, larghezza, 71 cm, altezza minima. 54 cm, altezza massima, 68 cm, diametro della base, 67 cm, peso, 55 kg, carico massimo, 55 kg, tappezzeria, tv.